Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Tempo in netto miglioramento nei prossimi giorni grazie all'anticiclone. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 7 luglio. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutta la penisola. Al pomeriggio poche variazioni con ampie schiarite ovunque, da segnalare solo qualche temporale sui rilievi specie alpi occidentali. In serata e nottata fenomeni che potrebbero interessare il Piemonte, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime, massime, stazionarie o in generale rialzo da nord a sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.